Però questa è una delle occasioni che può consentire alle cosiddette aree interne di esplodere, perché sappiamo tutti l'Aquila è un stato bellissimo, tutto il territorio dell'entroterra abruzzese è bellissimo, dobbiamo farlo conoscere. Ecco, manifestazioni come queste aiutano perché fanno da traino e possono essere appunto un veicolo per far venire il turista la prima volta, poi quando uno viene qui la prima volta ci ritorna sempre.